Questo video è offerto da Francesco Nicastro, sei uno degli ultimi arrivi, ovviamente parlo di ufficializzazioni, per te anche un'altra esperienza fondamentale, anche perché diciamoci la verità, il reparto offensivo l'anno scorso non ha dato grosse soddisfazioni ai rifusi. Diciamo che inizio questa nuova esperienza con tanta voglia e spero di far divertire i tifosi e di dare il massimo per questa maglia. Comunque sei un giocatore abbastanza esperto per la categoria nonostante la tua età, il tuo obiettivo personale? Sì, gioco già da tre anni in G, il mio obiettivo è quello di dare il meglio per la Juve Salve, quindi fare quanti più gol possibili e raggiungere l'obiettivo, c'è sempre la vittoria e arrivare il più alto possibile. Tuo ruolo preferito, esterno d'attacco, magari in una coppia o due? Sì, sì, diciamo che preferisco di più giocare esterno in un attacco a tre, però mi adatto a qualsiasi ruolo diciamo.